Ritroviamo il presidente Califano, parliamo dunque del Val Gallico. Buonasera presidente. Buonasera a voi. La voce è di quelle contente, del resto insomma sono arrivati tre punti preziosi che rafforzano la vostra presenza nella zona nobile della classifica. Sì, sì, infatti siamo qui con la squadra, devo ammettere, c'è grande entusiasmo, abbiamo meritato questa vittoria contro un Catona comunque agguerrito e sono tre punti fondamentali in una corsa playoff. Girate a 28 punti, oggi l'Africo che secondo in classifica si è fermato ne ha quattro in più, se è vero che la Bovalinese sta procedendo come una corazzata, la lotta invece dal secondo posto in giù è bella, interessante? Sì, devo dire di sì, non me l'aspettavo perché comunque l'Africo mi aveva fatto un'impressione importante quando era venuta qui a Gallico a vincere. La Bovalinese diciamo che oggi ha staccato probabilmente il biglietto per il primo posto in classifica, però noi ci siamo, ovviamente ancora c'è tutto un girone di ritorno, però ovviamente ci sarà da lottare perché comunque la lotta è abbastanza serrata. In un flash, Presidente, le prossime due trasferte contro due squadre impelagate per la lotta per non retrocedere, serve tutta la maturità di cui siete capaci per confermarvi? Sì, adesso domenica andiamo a giocare contro la Villese, non sarà affatto facile, poi ci sarà il giro di Boa e andremo ad Ardore, ci vuole assolutamente una grande maturità per affrontare queste partite contro squadre che sono comunque affamate, assedate di punti per la salvezza. Grazie per essere stato con noi, buona serata. Grazie a voi, buona serata.